ave gente bentornati su promerdus io sono snoopy c'eramo lasciati qui alla fine dell'altra missione ho perso un pochino di tempo è durato il video un po più del dovuto ma spero che vi sia piaciuto oggi cercheremo di essere un po più rapidi allora c'era 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 delle cose che abbiamo preso abbiamo sblocca preso delle cosine no queste viola quindi questa roba qui non ci serve dobbiamo riportare qualcosa alla base la riporteremo un'altra mascherina viola 531 570 di genere hp questo ci farà sopravvivere abbiamo preso un'altra arma questa non si è riscontrata fortissima questo fa meno danni però 350 di natale 285 colpi per minuto però è lento questo l'ho già provato non mi piace non è abbastanza rapido devo cambiare arma rimetto l'mg perché il thompson comunque non è un granché devo trovare di meglio abbiamo tre casse risorse statistiche va bene abbiamo le casse apriamo le nostre casse ok giusto detto che cambiavo fucile da cecchino qualcosa di meglio quando era ok adesso andiamo a vedere nello specifico cosa abbiamo preso vediamo un po questo qui only badger non è blu fa meno danni ovviamente però è meglio di un lmg è anche essenziale scusate ma lmg senza un caricatore esteso non è un granché e 2000 cioè cambierò mai il mio fucile da cecchino qualcuno ripetizione fino a che questo continua a dropparmi questa roba fantastico cosa abbiamo preso come pistola è ok si fa tanti danni ma è un revolver tempo di ricarica molto meno precisa ma ce la mettiamo solo per provare l'altra non la butto solo per volerla provare nostri quantini quindi sono viola mi dispiace sono viola e resistenza di esplosivi anche se questi effetti effetti è anche questi generano gli hp però questi sono viola 50 sostanti di corazza no mi tengo quella siamo su viola l'armatura la nostra armatura effetti stato più 139 salute e tanta corazza in più siamo a posto possiamo procedere abbiamo fatto diverse cose che cos'è a incarichi top secret abbiamo sbloccato il livello ovviamente incarico top secret dovrai esplorare l'area ricerca indicata sulla map per trovare gli ingressi certo certo una volta scoperto ingresso questa attività potrei usare lo spostamento veloce c'è c'è ovvio allora dove avevamo sbloccato all'insediamento sono come è comparso il mondo è comparso il mondo quindi ci sono molte cose nuove siamo partiti da un punto siamo arrivati dall'altro e adesso ci andiamo a prendere tutti i nostri componenti shade questa ci facciamo tutti i nostri componenti shade forza andiamo così prova anche la pistola me la porto già per strada vediamo un po andrò diretto ai punti shade cercherò di non soffermarmi troppo su altri vari ed eventuali altri vari ed eventuali posti di blocco cose simili ecco come non detto voglio provare la pistola uh quanti che carini liscio mi piace mi piace bello più veloce dei classici revolver oh e mori eh sto sto cazzeggiando me sto fa danneggia bestia guarda dove è quello che lancia le granate guarda che distanza ti sparo che calamo danno comunque te l'hai davanti eh magari se gli spari i problemi morono si carina 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 continuo a sbagliare tasto io continuo a premere esche per andare all'inventario quando basta premerlo con il tasto apposito i si meno danni ma radio di fuoco più alto carina bella grazie abbiamo provato anche questa via verso il nostro obiettivo no scherzavo devo troppa roba ho preso il prendibile certo rispetto all'altro hanno reso molto più intuibile il droppabile cioè a parte ovviamente immaginare una valigia così abbandonata lontano dai rifiuti se ci passi vicino si illumina ed è più diciamo più visibile apri cancello ci prendiamo la nostra tecnologia shader ok saccheggia che c'è dai svd 1098 e mi dispiace questo altro fa 2000 questo altro fa 2000 e quindi mi tengo questo impostiamoci la prossima meta questo che è più lontano e poi ci avviciniamo così al rifugio via ok speriamo di rincontrare troppa roba per strada non intendo di gattivi intendo di perdita di tempo sento qualcosa di elettronico però sentito sicuramente c'è qualcosa a cui non sono passato abbastanza vicino qualche telefonino qualcosa madonna si è illuminato qualsiasi cosa di rosso c'ho il silenziatore c'ho il silenziatore non mi dovevi sentire oh quanta cattiveria bello questo raga fino a mo' radio del fuoco così l'ho visto solo sopra il g36 guarda quanti cattivi e uno oh qualche cazzo gli ha sparato quell'altro oh quasi tricolore ah questo è il mio zaino posso prendere questo zaino voglio questo zaino c'erano dei cattivi anche dietro ma abbiamo detto che non ci facciamo fregare troppo per non perdere tempo quindi ce ne andiamo diretti di là non so cosa gli abbiamo sparato ma era cattivo corri corri che poi non c'è più chi gli ha sparato non c'è vabbè sarà sicuramente qualcosa su quelle scale come hanno detto ops corra 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 nemici cattivi oh finico qui magari se ricarichi quando finiscono gli scontri ritorni pure più utile ma perchè non me considera ci volevo monta sopra invece mi ha sgamato ciao pattuglia eh questo è il classico proprio senegalesi armato da cappa abbiamo un luogo comune eh oh boh ehi se lo so portato dietro da far cry chi lo sa l'hanno visto è scappato bersagli bersaglio fucile a pompa granatiere granatiere per primo tu che spari da lontano e tanto questo mi corre in faccia scontato proprio prevedibilissimo ok ne scappa oggetti oggetti molti oggetti da sbloccare questi sono mi danno fastidio se vado verso la mia tecnologia shade calo di funerite da fastidio vengono nella mia direzione ma stanno fermi là no mi danno fastidio non li lascio vivi oh che pippa che sono non sai furbo se resti fermo in un posto a puntarmi e se vabbè intelligenza artificiale che lascia abbastanza a desiderare eh sì una granata e un drop utile un mitra ce lo vediamo subito vediamo un po' che mi hai dato allora adesso vudi mettete no mmp7 già provato grazie già provato niente da provare droppabile qui niente va però per la tecnologia shade devo passare di qua dov'è? dove diavolo è? ma è sotto? devo passare il muro? aha magari c'era il vicolo no? dici ricarichi dopo che ha sparato un colpo? così intanto sono finiti chi se ne frega la pistola è infinita quindi non so se potremo permettere fermi nuovo giocattolo eh 690 danni colpi a 1790 360 è più lento questo cos'è lo proviamo quello per il momento non lo buttiamo il radio mi è piaciuto moltissimo controllabilissimo non male silenziato poi fa una cosa che è carino diciamo dai tutto sommato silenziato interessante saccheggia saccheggia cattivi a destra a sinistra davanti non mi dico che quello sta sdraiato là dietro uh la macchinina ha lanciato non è esploso si 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 aspetta che mua muovo segno allora mi ha segnato dei nemici da una parte e dall'altra poi sono spariti tutti c'è più nessuno vabbè droppabile giacca blu tanto mi metto ecco è colpo singolo sta trezzo fa danni fa abbastanza danni allora tecnologia shade è lontanissima al di là della missione principale oltretutto corra corra fa danni però è lento gli diamo un'altra occasione ma molto probabilmente tornerò indietro è un cattivo no è una battuta quelli sono cattivi la sorpresa è con lui vabbè aspetta che mi ripio eh niente lascia la granata ammazzano tanto non vedete se mori no vai tranquillo ma ne è vero sto droppando i femminite nella maniera allucinante mentre ce l'ho davanti che brutta cosa non riesco a capire cos'è il problema cosa cos'è ah c'è anche il caricatore più piccolo no è anche il caricatore più piccolo quest'arma no 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 la cambierò vabbè ovviamente non l'ho provata ma molto probabilmente la cambierò se tu mi dai così lontani questi sono amici addirittura io automaticamente gli sbarro con il fucile da cicchino ciao battuglia impiagnato nelle riparazioni di una scatola rotta questi sono cattivi no trasmissione ostile rilevata niente nessuna trasmissione ostile ha detto solo che è rilevata mica ha detto com'è richiesta di supporto no eh ma scoprirò perché troppa prima o poi i firmware di te così da ottenere anche un sistema migliore per quello che sono i video perché queste condizioni oh oh credo di aver visto no 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 non te crede non te crede ah allora adesso qualcuno mi darà dello stupido non ho mai provato a sparare alle casse non ho mai provato a sparare alle casse non ho mai provato a sparare alle casse eeeh o meglio alle sacchette speciali del nemico mai c'è un punto interrogativo no devo saltarlo no no anche perché mi sa che il livello qui è più un po' più grande poi più alto ma devo saltarlo per altri motivi perché sono interessato ad altre cose quindi già adesso perderò tempo con questo punto interrogativo voglio quelle due tecnologie shade e poi andare a vedere all'insediamento cosa sono le nuove ehm opzioni saccheggiamo qui e andiamoci a sistemare allora l'armatura che abbiamo preso 1.300 però mi da 41 HP di rigenerazione questa niente questa è più specializzata allora la tagliamo e mi dalgo l'arma rivolgo questa sono andato bene dai si ok mi ero già perso tutta una figura si ma il livello è altissimo dall'altra parte mi fanno il mazzo sallo metteteci un monopattino vedi poi mi dici no io adesso dovrei sparare a loro vedo mette col mitra ma c'ho questo che è tanto bello c'ho danni al dugo da lontano via 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 sono comparsi nemici alle spalle sono comparsi nemici alle spalle non sono spawnati alle mie spalle poco dopo essere passato ma neanche mentre passavo proprio troppo 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 anche i framerate s acceso qualsiasi cosa rosso intorno e pare che ci hanno messo apposta sta a fare dove stanno ecco la 1 allora così ah no lo volevo ammazzare invece liscio ah si è sparato per terra tu mi spari attraverso la recensione no? se io sparo lì sicuramente fa tim e non te pio ah l'ho preso non in testa ma l'ho preso e infatti come volevo dimostrare vedi? ma anche lui passa cioè quello in mezzo è un muro antiproiettili però sul gomito muori che forti quelli con lo scudo nooo l'ho lisciato all'ultimo colpo che forti che ti dico scudo ma simpatici bravi ragazzi in fin dei conti dai da qua qualsiasi cosa fosse sig mettiamo il sig dov'è? 502 danni 502 danni anche questo qui non è automatico è semi che mi dai? che soddisfazioni mi dai? avamposto alleato rilevato sì sì salvia va a un posto quelli sono cattivi? madonna che vinculo raga ah ma questi sembrano ah sì come al solito sembrano tra bande non ho capito se qualcosa si spacca o cosa? salve dov'è? dov'è il capo? vedete il capo? ufficiale ufficioso? ci avrò qualcosa che te posso dare? controlliamo subito abbiamo risorse in abbondanza eppure io e te do resto salve salve adesso posso passare oltre posso passare anche di qua passiamo da sotto passiamo da sotto perché c'è il punto interrogativo da saldare sta a fare lo sig è bello vedi sta cassa come dicevo il fatto che si illuminano sono interessanti quella quando caspita la vedevi se non ci passavi così che era si accenneva scosta a mezzo all'erba alta non andate nell'erba alta non andate nell'erba alta dove sono i cattivi? dove sono i cattivi? controllo del territorio c'è una guardia qui dietro? ciao! giustamente droppa ho cominciato a sparare a caso a un certo punto ho cominciato a tirare come se non ci fossero domani pare che faccia abbastanza danni andiamo a vedere questa zona controllata da ostili se la liberamo sigilla il perimetro è questo? è dentro bello dentro mi piace ci vorrebbe il fuzile a pompa e lì come ci vado? qual è la porta che si potrà aprire? una delle due di là sicuro e ci vado pure dopo come al solito noi ci siamo stati qui c'è stata una missione qui ci abbiamo fatto una missione raga io mi ricordo questo laboratorio ehi vada come troppa questo è l'ascenzone ma stiamo a rifare l'inverso ma me lo dovrò fare l'inverso adesso ha cage via missioni cattive proprio non so se lo devo fare cioè non so se era questo l'obiettivo no ecco l'obiettivo infatti venivo da sopra e da sopra è sicuramente più comodo cos'è? le piante sono d'acciaio? le piante sono d'acciaio? se no non si spiega voglio andare sopra non voglio stare giù ho bisogno di una mano bene così pallina? trovali dove stanno? sopra sotto da destra a sinistra dove stanno? sotto la macchinina maledetta però fa abbastanza ah tu piance basta ci passo sopra ok giusto no? giusto non è qui sarà delato controllo del territorio ma stiamo facendo il controllo del territorio? cioè non ho capito io non ho capito abbiate pazienza ok perimetro in sicurezza era questo tu ruba e poi prendi il perimetro e lo metti in sicurezza chiaro no? allora io venivo da sopra quindi devo tornare sopra quella stanza di sicurezza come la raggiungo? noi veniamo da una porta di qua? si si perché io ero qua dovevo venire da quella porta? credo da questa questa si da questa e chiuso chiuso aia ma lagga allora beh potevo passare pure da sotto figurate allora di qua altre munizioni speciali altre munizioni speciali e qui siamo sempre dalla parte quella esterna allora dove diavolo? da qua da qua si esce fuori vabbè andiamo a questa tecnologia scelta abbiamo posto alleato vicino si si è lo stesso di prima il piano tecnologia scelta ti tocca fa tutto il giro della pepe lì c'erano cose che io volevo ma a cui non potevo accedere però ma è bello comunque che ti dà missioni dentro dove sei già stato alleati madonna ma ci stavo su quella tecnologia shadement mi sta a fa tornare in paradiso però mi ha fatto trovare una cosa che ne avevo visto prima ok ok come un collezionabile di quelli da visualizzare ah ok mamma mia già dillo a me che vuoi dire che ti prende lascia perdere ignorami vai a lavorare non trattarmi in questo modo parlami credo di meritare salve si ferma ma quasi di sparire le gambe no è scappato dall'ultimo boom morta che non gli esce da a me dove sei dove sei dove sei dove sei dove sei sai che gioco a qualsiasi cosa prima di entra lì ovviamente dispositivo elettronico portati e rilevato pure quanta roba abbiamo trovato qui sto ora ce la prendiamo da quel tecnologia shadement che c'è l'ira di dio qua troppo grazie 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 vicino ci mettono i portano a benare che è l'express blu dopo ce le vediamo quello ce lo mettiamo da parte il blu a sto punto lo usiamo per fare delle cattiverie gratuite abbiamo troppo abbiamo troppato il droppabile c'è una shade qui vicino ok no da qua non scenderà mai da qua si però fate male spezzate le gambe ma io vede col sangue alla bocca non c'è altro ah si o meno ecco qua oh no ok riguatti una cosa subito non fa questa è blu e ce la prendiamo a prescindere e poi le cose ce le guarderemo con calma alla base adesso ci prendiamo quest'altra tecnologia shade ok ma me l'ha droppata questa mi sa che si anche se fosse fatto non ti riguarda è questo che pensi sei davvero tanto stupido siamo tutti sulla stessa bar che carino tutti dipendiamo l'uno dall'altro se non possiamo dipendere da te non puoi restare qui non puoi cacciarmi l'ha appena fatto ahie non lo userò mai lo cecchino sappiatelo forse solo per provarlo si credo di si solo per provarlo signori mi tengo che l'altro tizio oh sono piena d'acqua oddio hanno sparato c'è un balcone ma che io te l'ho da una mano che dite gliel'ho 8 liberia ma se mi leggessi il libro nooo hanno finito? hanno finito? non posso credere che stia succedendo qui e no e dove succede? tutta la città è così? hanno finito non c'è più nessuno bene signori visto che tanto hanno finito che cosa? ah ma me l'ho anche equipaggiato me l'ho anche equipaggiato perfetto quindi lo proviamo subito alla prossima volta non ci sono più cattivi per provare al volo ci facciamo compagnia con le povere persone trucidate io spero che il video vi sia piaciuto non ci sono state missioni a questo video anche se avevo permesso di andare avanti con la storia ma ci siamo fatti una bella raccolta di tecnologia shade che ci servirà in futuro per migliorare in futuro potrebbe anche essere la prossima missione molto probabilmente ci saranno altre giocate dove faccio missioni secondarie che non vi porterò per non perdere troppo il filo della storia diciamo per così dire o comunque le missioni le prossime state sicuri andremo qui andremo alla nostra base tranquillamente al nostro insediamento e ci andiamo a vedere tutte queste cosine nuove che sono uscite per il resto dobbiamo anche recutare delle persone per il resto vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto a condividere i video del mio a crescere e a restare sempre aggiornati iscrivendovi al canale ma anche ai social come instagram twitter e c'è addirittura facebook pensate poco trafficato ma c'è un saluto da Snoopy al prossimo video ave a presto a presto a presto